Buongiorno, buonanotte, buonanotte. Ma tu hai dormito? No, un'ora. E che pure io? No, aspetta, no, ho dormito 45 minuti. Io ho dormito in autostrada ieri, io arrivavo da Milano, cioè la vita mia di questi giorni è stato un concerto in Francia, abbiamo preso l'aereo per la Svizzera, sono tornato a Roma, non sono passato da casa, ho preso la macchina, sono direttamente su Milano. Dalle nere hanno fatto una cosa equivalente, ma con una città diversa e poi siamo orientati stanotte a casa alle 2, quindi qualche ora fa, e adesso sono le 4 meno un quarto e ci stiamo dicicendo. Poi ci ha impostato per... dove andiamo? E adesso stiamo andando all'aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino. Sì. Per andare a Londra è un blog esclusivo per tutti voi e stiamo andando alla mostra degli oggetti messi in vendita all'asta di Freddi Mercury a Sotheby. Sì. è un blog che ci avete chiesto insomma su Instagram, ma farete il blog, farete il blog ragazzi. Blog, 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 blog. Stiamo a Cernai. Cernai. E stavamo qua, quindi 24 ore fa, poi spostamenti e poi restiamo un'altra volta qua. Qua Sotheby. In tranquillità ragazzi. Sì... Sì, sì, sì. Ho sognato questa roba, con quell'ora che avevo creato, ho sognato pure questa, ho sognato che è il gioco, che arrivavo lì a sognare. Perchè c'è un errore, non so se è Daniele Fasciani o Freddie Mercury, qua è morto nel 91. Bella città da nessuno. Facciamo subito un chiarimento, non è sotebai, ma è sotebi in realtà. Ma lo sapevamo, i sotebi vivono così, gli esperti, per me rimane sempre sotebai. Comunque sotebai? Sì, sotebai. Puoi essere pure la licenza poetica. Sotebai. Ok. No. E' un'interno dell'aeromobile. Vi inviti a di fronte a voi. E ricordate, in avanti di un'evacuazione, devi... Perciò rimanere a scegliere il tuo sceglie aperto fino a che il sceglie sceglie. Che hai fatto la mano? Ti vuoi raccontare? Il coinciderti sul palco... ...e una botta per Led Special! La Led Special sta bene, comunque, ragazzi. La mano di Daniele è un po' meno. Il dolore gale. Questa volta. Vediamo che po'... Si, si, un po' così. Hai fatto un sentimento, se no ho sentito un po' assurdo. Se è successo. La mia madre è un'perico, necessario fortale dipendere. Ma questa, faccio il profilo a focalizzano YouTube, Ero da lìa lineare. Joalred vai e inizzo, e ci vuoi essere iniziata a cons transformare. E che queste ore suono, c'è l'aereo di colla l'idea con me più di qui è non di andare col treno a londra ma ci affittiamo una macchina così facciamo più danni quindi ragazzi siamo qui dalla Sixte Daniele siamo alla Sixte stiamo prendendo una macchina che abbiamo visto alla fine il prezzo quale se avessimo preso il treno e poi la metro quindi siamo più liberi e riusciamo a fare anche molti più danni e problemi ecco la nostra macchina verde ramarro vabbè senti che metto dietro verde speranza si proprio già vedi già parte male che il volante sta qua vabbè che il signore ce la mandi buona e non come quando abbiamo preso il camper dobbiamo mettere il navigatore no? un po' benzina pieno l'ho detto dobbiamo mettere il navigatore? si mi pare Nigel Mansell sarà il buffer dritto? una cosa difficilissima ragazzi non so chi ci ha fatto se ci fa noi tra camper e immagina a noleggio vabbè vada così vada così prima di andare a Londra siamo andati in un'altra location che voce c'è chitarra c'è ci manca al basso no? vabbè non aggiungiamo altro che a destra Lasciamo così. Intanto ci facciamo una colazione. Siamo in piedi da 48 ore. Colazione chi ha a vista? Vediamo se qua c'è qualcosa. Facciamo un breakfast. Chocolate cake. Chocolate cake che si fa a vincere, no? E adesso mi faccio un po' di brownie. No, brownie, no, brownie. Brownie, brownie. Fai di me questa mangiare brownie. Guardate, sono due. No, no, quelli belli brownie. Quindi abbiamo buttato per un brownie, oppure una... questa qua. Chocolate cake. E da bere caffè americano. Quindi un bibitone che non finisce più. No, così è. Quanto ce ne metti? 12. 6. Guarda che è buono pure senza. Eh, buono, matti. È stato cotto con le fiamme dell'inferno. Qua è autentica. Buona. Buono. Allora, ragazzi, se ci vedete particolarmente felici, io e Daniele, perché abbiamo appena fatto una cacchierata con John Deacon. Eh, sì. Sapevamo dove l'avremmo potuto trovare e niente. Stretto di mano, ci siamo fatti una cacchierata. Non ha voluto fare foto e noi ovviamente abbiamo rispettato la sua scelta. Lo capiamo a pieno. Quindi l'abbiamo fatto né riprese né foto. L'abbè. L'abbè. L'abbè, l'abbè. L'abbè, 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 l'abbè. L'abbè, 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 l'abbè. Punto. E comunque adesso stiamo andando. Beh, la chitarra già ce sta. Però un'altra chitarra, mi fa sempre piacere, no? eh niente con la chitarra siamo stati meno fortunati oggi però vabbè ho lasciato un presente che direzione Garden Lodge ci rendi che stiamo qua sotto che cazzare iscriviti al nostro canale Grazie a tutti Allora ragazzi come avete visto siamo passati davanti Sotheby e la fila è clamorosa Non abbiamo capito bene gli orari Dobbiamo vedere perché probabilmente non ce la facciamo oggi Adesso passiamo al volo in hotel Vediamo una razzettata E poi Forse ci andremo domani mattina Vediamo un attimo Ai piani alti siamo 5 Ok Andiamo molto compressi con il letto Intimo No che stai spodetta Ok Sto buscovi Ok 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 No che stai spodetta No che stai spodetta No che stai spodetta No che stai spodetta Un caffettino Sarà la brodaglia Sicuramente Un caffettino Ok dopo aver mangiato siamo qui a Viale Trastevere come potete vedere No scherzo Ci stiamo dirigendo a Denmark Street e speriamo che non trovo qualche chitarra bella altrimenti me la compro e te l'ho pagata tipo 15.000 euro d'extra seat Mi compro tutto il volo da Welling per riportare una chitarra Ok ragazzi siamo qui nei pressi del Dominion Theater Adesso ve lo faccio vedere qui davanti a noi E in questo momento c'è Grease va bene col mio abbigliamento e capigliatura Sì sì Ecco ad esempio la Les Paul è tanta roba ragazzi La Les Paul è molto disagio i negozi come questi ragazzi Tanta roba ragazzi Tanta roba ragazzi Tanta roba ragazzi Noi 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 Sì, sono qui, non ci posso dire, tanto... Quante frasi! Tutte me le compi Sì, sì, le BMG Ah, eccolo Che significa? In diverse colorazioni Cosa ne pensi di questa chitarra? La chitarra acce La chitarra acce La stessa cuore è brutta forte Ragazzi, è bruttina, bruttina abbastanza Si entra, ma si si entra Si entra, si entra Ragazzi, eccoci qua, l'ennesimo negozio Tutti molto gentili Ah, vedete qua, anche pedali, che cosa Sto stupendo, eh, questo pure solo come arredamento a casa Tanta roba Thank you, bye Oh, quello di Mercoli Entrano tutti quanti ragazzi Non me ne faccio scappare nemmeno uno No, però non acquisterò nulla perché non posso Aiutatemi Non ci sono Sì, sì. Sì, sì. Sì, can we film a unico, 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 unico. È veramente molto. Sì. Grazie a tutti 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 Danielino la prossima destinazione qual'è? Grazie a tutti 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 Così Adesso Eccoci Tutti Buona Grazie a tutti Tutti Buongiorno E quindi Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti Buongiorno 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 Grazie. 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 Adesso ti sei voluto riprendere la roba? Eh? Ti sei voluto riprendere la roba? Sì, mi riporto tutto a casa. Certo. Guarda, pure le occhiai hai lasciato qui. Mi riporto molto da proprio videojacker. Bipotti eh? Sì. Ah, qua si impazzisce ragazzi. Qua si impazzisce eh? Sì. Qua si impazzisce eh? Attenzione oddio. Vabbè non dico niente. Alla int каких stai loin? Sì. 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 Grazie. 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 Ragazzi, mi pare che la mostra sia finita. Daniele non si capacita, infatti vuole tornare indietro. Ma io che ho detto che è finita? Eh, no. Perché lui ci si arrabbia perché questa è roba tua. Mi è rimasto qualcosa. Perché è roba tua e ti lo riporto indietro. Manca qualcosa. Qualcosa manca? Sì. No, non manca. C'è i scatoloni. I? Scatoloni. Per portarli via? Sì. Li portavo tutti a casa. Quindi sì, non ho parlato, ho lasciato spazio alle immagini insomma perché penso che erano molto più eloquenti e qui alla fine dell'esibizione c'è un bookshop più alle mie spalle. La mostra è molto bella. È bello perché insomma i vestiti in realtà non stanno di Arronateca, vestiti da altri oggetti ma sono visibili. C'è scritto di non toccarli. Non sono stati toccati. E niente, è molto molto bello. È una cosa veramente eccezionale ragazzi. E non credevo così tante cose in realtà. Cioè non credevo che ci fossero tanti oggetti. Cioè tante oggetti, tante scarpe ad esempio vecchie che non credevo fossero state conservate. Quindi è una cosa veramente veramente molto bella. Qui all'uscita da vedere tante cose. Questo è il display copy che è praticamente il libro che riassume tutte le cose che sono state messe all'asta. Come va a dire. Quindi le cose che noi e Daniele abbiamo avuto la fortuna di vedere dal vivo e sono anche... Sì, siamo italiani. Ho sperato una mano. È tempo di riprendere lo zenetto. Adesso aspettiamo qui. Se non l'hanno fatto brillare lo riprendo perché c'è qualche cosina c'è sta insomma. Grazie. Ok abbiamo tutto. Sono le 11.40 quindi è pure presto. Adesso vediamo un po' fra di me qui che vuole fare. Forse andiamo a pranzo? Chi lo sa. Vediamo se riesco ad uscire anzitutto. Andiamo? Andiamo a vincere? Ho una macchina tre ore a caricare il telefono. Sì sì, c'è una macchina che consumiamo un pene di benzina per caricare. Dove stiamo? Facciamo il giro? Questo è il retro. Qua. Ah, anche questo qua. Abbiamo fatto un parcheggio ragazzi che da arresto immediato. Vabbè ora fammo una cosa, tanto ormai sta bene qua. Andiamo a mangiare una cosetta. Bravo. Mi piace. Eh? Ti è piaciuto? Eh andiamo dai. Questa se no la fanno detonare la macchina. Vuoi saluta col tre alla gente? Per la gente ci chiama, dentro del potevo. Allora si chiama perché tu due tuh. Eh eh eh. Ehi gente buonga hanno delle facce con dei passi in davanti. Eh eh eh. Io oggi, cioè sto passando alla vacanza per guardare le facce della gente e guarda tè. E' normale, facciamo due giri del palazzo, ti dà un po' di emozioni, capito? Allora, fate finire la fila, poi mi incartate tutto quanto, a Roccapriora, esatto, bravissimo, bravo! Tutta a Roccapriora? Tutta a Roccapriora, ok, va bene, grazie, ciao! No, 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 sì, tutto quanto, sì, pure le foto con i gas, tutto quanto! E scarpe, 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 quelle me le metto, quelle me le metto domani, va bene? Ciao, grazie, ciao caro, ciao! Tra il divertimento e lo stupore della gente, il divertimento generale, sì, sì, sì! Guardate, comunque, non so se vedete, qui, alle nostre spalle c'è una fila clamorosa, cioè, prima, quando stavamo in età, una cinquantina di persone se ne erano state, invece adesso, guardate questi poveri cristiani che entreranno, tipo, domani, vedo la sedizione, però, io intanto riprendo, non dico nulla, faccio vedere un po' la via, a che livello è arrivata. Questo è tutto isolato, stiamo girando intorno, adesso ripassiamo dall'ingresso e facciamo vedere un po' come è la questione. Così mi dà un po' di... mi dà un po' di soggezioni. Sì? Eh sì. Mi sento un po' al centro dell'attenzione. Sei timido, sei? Eh, abbastanza. Non ti devi vergognare. Abbastanza. E questo è quello che hai scelto te, eh? Eh, lo so, lo so, lo so, lo so. Però... non è la mia mostra, capito? Come no? Eh no. Questa è la roba di casa tua. Tu devi vedere le facce delle persone, aspetta, poi farò qualche zoom su qualcuno in particolare, perché sta facendo tipo a bocca aperta. Non male. È giusto? Eh, sì. Questa è la mia volta che vengo all'Undra. Sì? Le vesti di Gotti Mercury, praticamente. Cioè, di solito sei sempre venuto in borgogia. No, sono sempre venuto, no, con la barba... Tipo George Michael. Poi ero piccolo, ero piccolo. Tipo George Michael. Sono cresciuto, sono cresciuto e... facciamo questo di lavoro e quindi sono anche obbligato a rimanere così. Ormai questa è la tua vita. E la gente è pure contenta, ragazzi. Sì, sì, sì. Saluto a tutti i coltre, dai. Quindi adesso basta col cazzeggio, che cazzeggio non è perché poi è la nostra vita in realtà, quindi è una scelta di vita. Difficile, ma è scelta. Adesso andiamo a mangiare, ragazzi. Il tempo... E poi è il metà giugno meno un quarto, eh. Sì, ma in Italia sarebbe l'uno meno un quarto. Ah, per me. A presto. E' l'unico. E' l'unico. E' l'unico. E' l'unico. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Ci dispiace da una parte perché ovviamente non ci è rimasto nulla di tangibile della conoscenza con John Deacon Ma va bene così perché abbiamo rispettato insomma le sue volontà che ci ha chiesto esplicitamente Come abbiamo detto pure ieri, nessuna foto, nessun video e è giusto così Però è sicuramente un'esperienza che porteremo per sempre al cuore Grazie 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 a tutti. 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 12 livelli. Grazie a tutti. 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 Buonasera. 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 Spero che vi sia piaciuto questo vlog. Buonasera. Buonasera. Buonasera.